Quanto ci vorrà per liberare tutti? Orecchie ore. Tiralo fuori. Quanti? Ci penso io. Quattro dei vostri. Due camerieri, una commessa della cristalleria e cinque passanti. In più c'è una dozzina di feriti. L'esplosione ha avuto origine dove erano seduti i tuoi. C'è stata qualche rivendicazione? No. La bomba ha danneggiato molte delle videocamere di sicurezza sulla strada. Non so cosa potremo recuperare. È tutto qui dentro. C'è anche questo. Era nel negozio. Penso che l'E-Bot fosse lì quando la bomba è esplosa. Credi che sia morta? Non l'hanno trovata.